Ecco, buongiorno ai nostri amici di Slow Web Radio, siamo tornati con un speciale adeguamento privacy, naturalmente sulle nostre frequenze radio, ma c'è una novità perché questa è una puntata sperimentale, oggi siamo anche in video, quindi naturalmente lo dico ai nostri ascoltatori che ci ascoltano da app, andate sui nostri social e ci potrete anche vedere. Chi invece ci sta già vedendo, sta già vedendo chi sono le nostre ospiti, quindi devo subito presentarle, amiche della radio, le conosciamo già, abbiamo Monica Perego e Chiara Ponti. Ciao Monica, ciao Chiara. Ciao a tutti. Eccoci, allora oggi abbiamo già fatto una bella puntata qualche giorno fa, sempre sulla scia di questa emergenza per capire chi si occupa di organizzazione aziendale, chi si occupa di protezione dei dati e quali sono le implicazioni e oggi continuiamo su questa scia, grazie a voi e oggi parliamo di qual è il ruolo del DPO nell'emergenza, vero Monica? Eh sì, perché qua a questo momento ci porta a fare anche qualche riflessione, ci rendiamo pur conto che oggi la privacy non è il problema numero uno e la mia posizione, ma penso alla posizione di tutti e ci mancherebbe. Però voglio dire il DPO si trova comunque in qualche modo coinvolto, anche perché qua ogni giorno escono decreti di PCM, escono comunicazioni anche oggi della regione Lombardia che ci obbligano a riconsiderare tutta una serie di aspetti anche nell'ottica della protezione dei dati. Ora, io penso questo, che oggi ci sono delle battaglie più importanti da combattere e quella della privacy non è la prima delle battaglie e non sarebbe neanche giusto che così fosse. Però un DPO qualche domanda è giusto che se la ponga e ponga anche qualche attenzione nei confronti del suo lavoro, del lavoro dell'azienda e soprattutto degli aspetti che riguardano la business continuity. Insomma, in altre parole, bisogna oggi scegliere quale battaglie combattere e la privacy va comunque sacrificata. Però c'è qualche paletto da mantenere. Questo è un po' il mio pensiero rispetto a questo. Beh, questo è già una metodologia comunque, no, Monica, che è una metodologia comunque che consigliamo, cioè nel senso che è un momento di emergenza dove chiaramente non tutte le battaglie appunto possono essere vinte. È fondamentale capire quale battaglie combattere in questo momento. Immagino che non tutte le aziende siano allo stesso livello per capire anche quale quale, cioè quindi chi è che stabilisce le priorità, l'azienda, il DPO, come avviene questo diciamo questa relazione in questo momento? Ma guarda, secondo me ci sono un po' trai scenari. Allora, ci sono le aziende che hanno coinvolto il DPO, hanno alzato il telefono in qualche modo e gli hanno detto ma cosa dobbiamo fare e quant'altro. Adesso poi con gli aspetti che sono emersi anche che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori ha maggior ragione. Ci sono quelle aziende che hanno fatto un sforzo in più, hanno coinvolto il DPO, hanno coinvolto le RSPP, queste tutte, ma hanno coinvolto l'organismo di vigilanza della 231 e li hanno anche messi in contatto. Quindi io in questi giorni mi è capitato come DPO di lavorare anche con organismi di vigilanza insieme, in team a queste. Diciamo sono le più virtuose. Ma nella maggior parte dei casi invece il DPO nessuno ci ha pensato e quindi è giusto che il DPO faccia, o sarebbe stato meglio, abbia già fatto, alzato il telefono, mandato una mail, fosse fatto in qualche modo sentire da un lato per comprendere alcuni aspetti e dall'altro anche per fornire delle indicazioni e dei suggerimenti. Diciamo che questo terzo scenario è il più frequente, ma possiamo anche dire comprensibilmente il più frequente. Quindi ecco, diciamo che una prima regola che ci possiamo dare è che il DPO di sicuro non può fare lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Quindi anche il DPO che magari ha preso molti incarichi, ce ne sono, che poi qua chiaramente ognuno ha valutato secondo le proprie forze, e magari qualcuno potrebbe avere, come dire, la tentazione di non seguire quelle organizzazioni che sembrano non ancora andarlo a evocare, a incitare, concentrandosi là dove sia più necessario. Però effettivamente anche questo può portare a qualche criticità, immagino. Sì, sì. Diciamo, adesso tu citi un tema, il DPO che ha preso una barca di incarichi, che è un altro aspetto che varrebbe veramente la pena. Eh, ma perché sono in queste situazioni che si vede, no? Chi l'ha fatto con qualcosa alle spalle e chi no. Però chiudiamo subito questa parentesi polemica. Esatto, ma poi io tra l'altro su cui ho un pensiero che non è tanto un problema di quantità di incarico, ma di livello di criticità delle organizzazioni. Cioè tu potresti avere anche, diciamo, un numero, 15 incarichi, però se hai 15 incarichi di comuni medi non ce la fai, ok? Ma non ce la fai in condizioni normali. Comunque questo è un altro aspetto, lasciamolo... Pure gli incarichi possono essere due, ma se uno è la team e l'altro è la Vodafone chiaramente potrebbe essere, no? Esatto, quindi siamo punti di caso. Ecco, invece per quanto riguarda il livello di coinvolgimento diciamo che il DPO dovrebbe in questi giorni aver alzato e alzare la mano. Soprattutto anche a seguito poi di quanto è uscito l'altro giorno per quanto riguarda la protezione dei lavoratori, dove sono gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori che devono essere salvaguardati, anteposti davanti a tutto. Qualche domanda è giusto che il DPO se la faccia, ma soprattutto per dare e confortare le aziende che qualunque azioni in questo momento possano fare, queste azioni comunque devono tenere conto di quanto è prescritto e questo è davanti a tutto e che la privacy va in secondo piano. Cioè voglio dire, quando stamattina un cliente mi ha scritto, mi ha detto, neanche dove sono DPO, è una realtà in cui faccio attività di consulenza, mi ha detto, ma Monica ma con la privacy, mi ha detto, guarda la privacy te la dimentichi in questo momento, mandi avanti quelle che sono le indicazioni che arrivano dai decreti e dal garante. Quindi questa è la posizione in termini generali in questo momento. Il DPO poi deve porsi in realtà qualche domanda. Mi piace questo approccio pratico anche perché è un approccio da nodo al fazzoletto, cioè te la dimentichi per questa settimana e poi pian piano, però insomma dopo magari torniamo Monica su questo tema anche dell'azienda, cioè capire cosa affrontare subito, che cosa magari metterà a calendario per un secondo momento. Invece mi piaceva questo spunto sui lavoratori. Ecco Chiara, prima la Monica parlava del confronto per esempio con l'Odv, immagino che lato lavoratori ci sia un'altra figura con il quale invece il DPO si confronta che è quello del medico competente. Settimana scorsa c'era tutta la questione dei questionari sì, questionari no, la febbre da provare, le cose. Come ci si regola il DPO che deve far affrontare questa situazione? Sì, allora io condivido tutto quello che ha detto Monica dal punto di vista, dico solo una cosa, che la privacy, io la vedo, la vivo, forse troppo da giurista, ma come un bilanciamento di interessi e quindi partendo dal presupposto che entrambi sono due diritti fondamentali, non dimentichiamolo. Certo la tutela della salute è un diritto assoluto, ecco perché c'è poi questo avanzamento della, non la dico altro perché obiettivamente prima di tutto è la tutela della salute, però secondo me è bene ed è una grande opportunità questa di fare una chiacchierata a tre perché oggi noi ci preoccupiamo di uscire o di mettere veramente tutto quello che è possibile, di affrontare più che uscire perché sarebbe bello già trovarsi nella condizione di dire stiamo uscendo dalla crisi, però non dimentichiamoci che secondo me una volta che saremo traghettati fuori potrebbe essere benissimo chiesto, diciamo in ipotesi ispettive, ma voi come vi siete comportati al momento della crisi? Come avete gestito? quindi tutto quello che va fatto sempre nel bilanciamento va visto anche in un'ottica diciamo dal punto di vista di colato consulenti anche in un'ottica futura. venendo quindi un po' alla domanda sicuramente il discorso del medico, del medico competente io vedo e mi ricollego a una cosa che ha detto la Monica correttamente lo scenario forse un po' più virtuoso dove hanno aperto un team crisi, un tavolo di crisi hanno coinvolto anche il DPO. Perché? Perché in questo momento è proprio vero, c'è bisogno di più teste messe insieme. Naturalmente il medico competente ha in questo momento un ruolo decisamente delicato perché pensiamo anche all'accordo che è uscito ieri che poi è un discorso di sicurezza sul lavoro. Cosa devono fare da lunedì, cioè da domani le aziende? Che dati devono raccogliere? Si dice appunto rilevamento della febbre. Va bene, non lo rilevo, però se ha il criterio è 37,5, se è superiore il dipendente cosa fa? Non entra. Giustamente si dice in quella nota di cui all'accordo tra le parti sociali uscito ieri si dice non vanno registrati i dati. Questo è già un aspetto di protezione dei dati personali da considerare. Perché? Perché il problema con me della registrazione è poi la conservazione, la gestione del dato. Certo è che se io mi limito a misurare la febbre e quindi non identifico l'ipotetico dipendente o la persona, parliamo solo di dipendente perché ormai credo che le aziende comunque quelle che vanno avanti, vanno avanti nell'attività interna, nella produzione, ma non c'è più l'accesso al pubblico. Diciamo così, non è in questo momento. E allora se io non mi limito ad esempio a prendere, a rilevare la febbre senza sapere chi ho di fronte, non ho problemi di dati. Siamo tutti d'accordo? Il problema è però se al mattino il dipendente viene, diciamo passa i tornelli o i cancelli, va a lavorare, a un certo punto della giornata si sente poco bene o si sente la febbre. Cosa fa? Su questo però Chiara, scusami, una precisazione. Il fatto che io non conservo i dati, non sto facendo un trattamento di conservazione, però la lettura la devo comunque considerare un'attività di trattamento e quindi scattano presidi come l'informativa da dare al lavoratore eccetera oppure no? Se io non identifico la persona che sta passando, diciamo, quel controllo, di fatto io non raccolgo nulla. Prendo giusto, pongo, prendo lo strumento, lo pongo, credo che sia una rilevazione frontale, guardo sì, no. A meno che ci sia l'altro caso, arrivo in azienda, tiro fuori il tesserino, lo mostro tra l'altro a chi, perché ci sarebbe da chiedersi anche a chi, perché l'addetto, mi chiedevo proprio stamattina, ma l'addetto messo all'ingresso non penso che possa essere il medico competente o che le aziende possano mandare quindi del personale medico. Se mandano anche una persona all'interno dell'azienda che sia la persona addetta alla reception, piuttosto che ci dovremmo anche porre il lato organizzazione come individuarla, se autorizzarla. Il problema era proprio anche questo, Chiara, nel senso che il fatto di rilevare la temperatura è un atto che devo ancora approfondire, ma credo, temo, che sia necessario del personale sanitario. Sono anche un infermiere comunque, non lo so, però non credo che la receptionist possa andare a misurare la temperatura dei visitatori, però questo è un aspetto che andrebbe approfondito a parte. Sì, ho qualche perplessità sul tema. Allora, la somministrazione dei farmaci ci vuole personale medico o infermieristico, su questo non c'è dubbio, ma la rilevazione della temperatura, questo è qualcosa che può essere benissimo fatto all'interno dell'azienda senza personale medico, tant'è vero che nella cassetta di primo soccorso obbligatoria presente in tutte le aziende c'è anche il termometro per la rilevazione della temperatura e quindi non sarebbe neanche concepibile una situazione di questo genere, ma neanche una situazione normale che io lì ho un infermiere o un medico per rilevare la temperatura. Aggiungo poi una cosa, che se abbiamo fatto bene l'informativa, e questo parlo tre anni fa, due anni fa, questo è un dato che tu comunque gli hai detto io tratterò i tuoi dati sanitari a fini dell'attività lavorativa, perché questo lo devo fare anche per l'idoneità sanitaria e quant'altro. Questa è una situazione un po' eccezionale, quindi bisogna, come giustamente dice Chiara, individuare una figura che rileva la temperatura e quindi che è autorizzato, come giustamente dice Chiara, se io non segno che tu hai 37 non tratto il dato, se tu hai un certo valore non entri neanche, in realtà non avresti neanche dovuto presentarti in un certo senso. Il fatto che poi la persona possa avere un alzamento della temperatura durante la giornata, ragazzi, è la stessa cosa, tra virgolette, che una persona due mesi fa si fosse sentita male durante l'attività lavorativa, solo che in quel momento nessuno collegava il coronavirus, oggi sì, però quindi diciamo non è che le aziende non hanno mai visto situazioni in cui gli operatori, i collaboratori non fossero in perfette condizioni di salute durante periodi non di emergenza come questo. Quindi questi fattori qua devono essere giustamente considerati e come dice Chiara, perché secondo me Chiara mette l'accento su un punto fondamentale, cioè alla fine di tutto questo bisognerà farsi anche delle domande, quindi il lato DPO, per ritornare a quello da cui siamo partiti, il DPO sarebbe giusto che tra le misure dicesse anche, sentite, create un faldone, mettete insieme un qualche raccoglitore in cui avete raccolto tutto quello che avete deciso di fare, come farlo, perché farlo, i documenti che sono arrivati dall'esterno, eccetera, eccetera. In questo modo riusciamo anche a ricostruire le misure anche a distanza di tempo che sono state messe in atto sulla base di un'attività di tipo storico. Mentre quel sistema che girava qualche giorno fa, qualche settimana fa, per cui all'ingresso i visitatori dovevano compilare uno stupidissimo foglio, ecco su quello anche io avevo delle enormi perplessità, però ormai forse fa parte di un passaggio. Quella dovrebbe, speriamo che sia andata insomma appunto, no, quella del questionario, perché ci siamo anche, diciamo, confrontati. Chiara, sempre sui lavoratori, poi sullo smart working io non aggiungerei altro, nel senso che abbiamo già registrato una puntata molto bella, dove ci hai dato molte dritte, molte indicazioni e rinvio i nostri ascoltatori a sentire quella, diciamo, quella puntata. Ci sono, diciamo, degli altri temi che sono emersi a tuo parere. Sì, secondo me la storia delle procedure, quando, che comunque è importante avere il DPO dovrebbe, in una fase del genere, che io con la Monica ho sempre, ci siamo confrontate e ci siamo in qualche modo dette, è una situazione di emergenza sicuramente peculiare, che oggi si chiama coronavirus, speriamo che domani non si chiami in altro modo, perché vuol dire che le emergenze saranno, situazioni di emergenza insomma, saranno per noi un ricordo brutto e lontano, però in ogni caso è una criticità, se vogliamo vederla un po' più dall'alto è una criticità. Quindi sicuramente il DPO dovrebbe valutare e potenziare le procedure di backup, ad esempio in un, certo, sempre, mi richiamo a quello che ha detto giustamente Monica in, inizialmente, siamo il DPO, cioè un DPO della emergenza oggi, prima, priorità e tutela della salute. Seconda, se volessimo dire un po' come bilanciamento, dopo c'è la privacy e tra la privacy sicuramente ci sono questi aspetti. Anche un altro aspetto molto importante, secondo me, è la vulnerabilità dei fornitori, perché occorre, diciamo, suggerisco di effettuare delle valutazioni su quei fornitori realmente considerati critici. Questo è un aspetto che, diciamo, merita attenzione nella misura in cui tali fornitori fossero pochi, ovvero in condizioni di impossibilità di operare, pensiamo in un frangente del genere, dove comunque l'attività produttiva non si è fermata, però tante attività si sono bloccate, quelle che non riguardano, diciamo, i settori di prima o le cose, le situazioni di prima, non riforniscono merci di prima necessità. Quindi, diciamo che da questo punto di vista è importante anche una mappatura, se possiamo chiamarla così, dei fornitori, un censimento dei fornitori. E poi c'è quell'aspetto in cui, allora, noi parliamo di un DPO, del DPO che viene chiamato, correggimi Monica se sbaglio, ma che viene chiamato in questa tax force, diciamo, senza portare nulla, diciamo, ai colleghi, ma e se ci fosse il DPO lui stesso contagiato? Allora, anche lì, un altro aspetto... Non è un aspetto banale questo, perché poi è la cosa che fa venire giù tutto il resto. Perché? Prendiamo il caso, mi viene in mente adesso, di un'azienda in cui il DPO si è perché poi dopo qualche giorno viene a scoprire che in quel caso c'è stato un contagio, si è verificato un contagio, lui magari non ha avuto il contatto diretto con, però DPO o non DPO, una persona, alla luce anche dei DPCM e dei decreti della salute, del Ministero della Salute, la precauzione qual è? Mettiti in autocuarentena. Anche se tu non hai avuto il contatto diretto con, comunque ti metti in autocuarentena. E quindi in quel caso cosa fai? Non è che puoi comunque continuare a lavorare da casa. Allora, o comunque puoi, e mi ricollego un po' alla storia del backup, è bene che il DPO, lui stesso, come predica, andate a fare, fate dei backup, le procedure, le abbia lui stesso. Perché nel caso in cui dovesse delegare per qualche motivo, contingentato oppure no, la sua attività non può essere, non può andare persa e dispersa. Ecco l'importanza. Quindi al netto delle questioni che ci ascolterà, insomma, non voglio assolutamente dire di altro tipo, e dico proprio solo una cosa tecnica, ecco, faccio un appunto su questo aspetto, perché mi sembra che il DPO deve, il concetto è quello che vogliamo un po' passare, che il DPO deve individuare una soluzione di backup e condividerlo con l'organizzazione. Anche come se fosse un estrema razio, perché sicuramente rendendoci comunque conto che questa soluzione è un po' forte, potrebbe far storcere anche il naso a qualche collega, dopo che si è toccato da ogni parte, però in una condizione di emergenza e quindi ritorniamo a quello che è da considerare. Anche qui naturalmente si conta, immagino, di qual è la tipologia dell'azienda, probabilmente, non so, un'azienda ospedaliera assolutamente deve avere una situazione di backup del DPO, forse altre realtà su questo possono essere, diciamo, più razze. C'è una cosa, anzi un paio di cose, Chiara, sul quale vorrei tornare, che hai detto, cioè da giurista condivido il fatto che chiaramente i diritti richiedono un bilanciamento e quindi in questo momento c'è, anche se qualcuno sta dicendo di no, però comunque anche il diritto alla protezione dei dati, vedo un bilanciamento con il diritto alla salute, bilanciamento veramente difficile e il fatto che in azienda questo bilanciamento però sia, diciamo, il risultato anche di un confronto, quindi sia magari all'interno del team, oppure anche un bilanciamento che può essere effetto magari del confronto con il medico competente o con l'ODV. Io ho un attimo perso il video della Monica, scusami. No, io ci sono. Ah, ci sei, ok, avevo perso solo io il video, quindi dicevo, e anche con l'RSPP esattamente, quindi io volevo capire, chiedere a Monica, il fatto che questo bilanciamento, questo confronto con altri organi che sono a garanzia dell'azienda, ma alla fine il DPO quali documenti deve variare? Perché qui si trisca anche il cortocircuito, cioè non è che il DPO può essere, diciamo, l'ultimo che può andare a giudicare o a leggere documenti resati da queste altre figure? Sì, allora, prima di tutto volevo aggiungere una cosa, che il discorso che è stato fatto sul backup del DPO va esteso a tutte le figure critiche dell'azienda, cioè l'RSPP prima di tutto, nel senso che qua bisogna pensare che noi abbiamo un RSPP in forza, in salute oggi e domani potrebbe non essere in grado di fornire quel supporto necessario all'azienda, quindi tutte le figure critiche devono essere valutate, questo in un'ottica di analisi del rischio globale, noi vediamo le analisi del rischio come pezzetti, poi però bisogna pensare che questa roba era messa insieme, quindi la mancanza di alcune di queste figure critiche deve essere sempre considerata per ciascuna di queste possibili. Per quanto riguarda gli aspetti che tu dicevi, allora prendiamo ad esempio il rapporto tra il DPO e il medico del lavoro. Il DPO non può che prendere atto delle disposizioni date dal medico del lavoro, punto, e ricordiamoci che le dà, anche alla luce dei documenti di recente pubblicazione, le dà il medico del lavoro, quindi non è certo il DPO che dice ci mancherebbe, i lavoratori devono indossare o non devono indossare la mascherina, non è il suo lavoro e quindi lui si rifarà a prendendo atto delle disposizioni date dal medico del lavoro. Questo perché ricordiamoci che il medico del lavoro si occupa della salute e sicurezza dei lavoratori dell'azienda. Poi ci sono, non dobbiamo dimenticarlo, delle aziende in cui c'è anche una direzione sanitaria. Faccio un esempio, le residenze per anziani, prendo quelle ma potrei prendere le comunità di recupero, le comunità psichiatriche, potrei prendere ovviamente gli ospedali eccetera eccetera. Ecco, queste realtà qui hanno anche una direzione sanitaria. La direzione sanitaria invece si occupa della tutela degli ospiti, quindi una comunità di recupero psichiatrica, dei soggetti vulnerabili, una residenza per anziani si occupa degli anziani. Quindi le misure lato lavoratori in questi tipi di strutture le dà il medico del lavoro, le misure lato ospiti le dà la direzione sanitaria, quindi ognuno ha un po' il suo, diciamo, pezzetto. Potremmo aprire una parentesi dicendo, ma se noi fossimo ad esempio in una scuola elementare, chi fornirebbe le misure rispetto alla tutela dei bimbi? Perché non c'è una direzione sanitaria in una scuola elementare, ma lì ci fermiamo perché hanno chiuso tutto e quindi è una domanda che oggi non ci poniamo, ok? Mentre le residenze per anziani di recupero psichiatrica. Quindi cosa succede? Il DPO non può che da queste figure, medico del lavoro per tutte le aziende, direzione sanitaria per quelle di cui sopra, prendere atto, chiedere che questa documentazione venga in qualche modo raccolta e diciamo organizzata e alla fine di tutta questa vicenda si riconsidererà e si vedrà anche quanto si è appreso, perché questa è veramente anche un'occasione di una lezione di apprendimento, cioè di una sfida nuova su tantissimi fronti e anche che ci permetterà di essere più robusti qualora un evento di questo genere si dovesse presentare in queste forme o in altre forme. Quindi diciamo che in questo momento il DPO non può che chiedere che venga organizzata la documentazione in qualche modo e ci sia una figura di riferimento. Per quanto riguarda i fornitori, ecco, come c'è tutto il problema del, e qualora il DPO non ci fosse, qualora l'RSP, ecco, c'è anche il tema da porsi per i fornitori, soprattutto per quelle realtà che hanno fornitori che sono piccole società che forniscono supporto IT, eccetera, ecco, perché hanno affidato tutto all'esterno, hanno terzializzato, presenza di DPO sì, DPO no, eccetera, ecco, qua, se io ho un fornitore solo che mi supporta tutta l'infrastruttura IT, ecco, qualche domanda nel caso in cui questa persona non fosse disponibile bisogna porsela, ok? E quindi bisogna anche in questo caso pensare di attivare, avremmo dovuto pensarci prima, però al senso di poi siamo tutti capaci, avremmo dovuto pensare a qualche backup. Ricordiamoci che quando si affronta l'analisi dei rischi, bisogna sempre pensare in un processo, tutto quello che entra, provare a smarcare se qualcosa non entrasse, non fosse disponibile, se il processo sta in piedi o no, e quindi se avessimo fatto un'analisi dei rischi così tempo fa, avremmo detto, ma senza fornitore IT, stiamo, stiamo in piedi, sì, no, no, sì, eccetera, eccetera, e quindi forse ci saremmo già posti questa domanda in anticipo. Sì, forse questa è proprio una prova del fuoco anche per la metodologia di analisi dei rischi, nel senso che in questa situazione dove sono veramente giorni frenetici, ecco, avere magari una metodologia di analisi dei rischi estremamente documentale, è chiaro che poi non si riesce a stare dietro, no, in modo effettivo, concreto, sul campo, su quei principi di privacy by design, privacy by default, e poi le cose cominciano a essere veramente confuse. Sì, ecco, poi però volevo anche, diciamo, dare anche un altro, un altro, come dire, contributo, che c'è tutto il lato umano di tutta questa faccenda, no, perché qua sembra che siamo ingabbiati dentro alle norme e così non è. Voglio farvi un esempio che mi è capitato pochi giorni fa, una residenza per anziani, che conosco, frequento da tanti anni, hanno chiuso tutte le porte, si sono blindati dentro, tra l'altro in un territorio devastato come la provincia di Bergamo-Brescia, si sono chiusi dentro e non hanno più permesso, giustamente, l'accesso ai visitatori. Questo l'hanno fatto prima che la regione non va via di essere delle indicazioni. Bene, ora che cosa succede? Questi anziani sono disperati nel non vedere i propri parenti, no, perché immaginatevi persone in paesi abituati a vedere con regolarità i propri figli, eccetera, questa ansia è montante ed è devastante. Bene, allora in questa residenza hanno pensato di fare un filmato, hanno preso tutti gli ospiti che avevano autorizzato dei parenti a ripresa e li hanno filmati tutti insieme, ok? Li hanno filmati, hanno lasciato dei messaggi ai propri parenti, hanno rassicurato che questi anziani si sono fatti vedere, hanno mandato dei messaggi di affetto ai propri nipoti, eccetera, eccetera. Bene, poi hanno pubblicato questo video, l'hanno mandato alle famiglie, eccetera, eccetera. Mi hanno chiamato, mi ha detto Monica, possiamo farlo? Sai, la privacy può essere che prendiamo qualcuno che non è dentro nel filmato, che non ha dato l'autorizzazione. Posso dirlo, chi se ne fotte, ok? Lo posso dire, eh? Cioè, chi se ne fotte. Non puoi dire. Chi se ne frega, cioè non è quello il problema. Vogliamo per la privacy, per le autorizzazioni, vietare a delle persone anziani fragili, che non sappiamo in che condizioni le ritroveremo, vietare di vedere, attraverso un filmato, farsi vedere dai propri nipoti, ma di che cosa stiamo parlando. Quindi, diamo il giusto peso a tutta la vicenda, è questa cosa qua. Quindi, da un lato il DPO è giusto che si preoccupi di backup, faccia sentire la sua voce, dia il supporto per dire, attenzione, io ci sono, se ci sono delle domande, io ci sono, sono sul pezzo. Ho anche individuato, questo per le strutture più critiche dal punto di vista protezione dei dati, una figura nuova che mi posso succedere nel caso in cui, e poi voglio dire che le cose diamo il peso ai valori che queste devono avere, ecco. Quindi ancora una volta l'importanza appunto di questo bilanciamento. Monica, ti chiedo quest'altra cosa, il DPO che cosa deve scrivere? Cioè, nel senso che cosa è opportuno che scriva a livello di linee guida, di suggerimenti, di regolamenti, perché l'altra volta abbiamo parlato di smart working, oggi parliamo di temi anche in situazioni appunto dove magari servono, non so, delle liberatorie video, oppure dei, diciamo, delle linee guida su all'ingresso, cioè chi è che decide che si conservano, non si conservano i dati sulla terza, insomma, sono vere e proprie nuove procedure. Cosa fa il DPO rispetto a queste situazioni? Quanto deve essere proattivo? Ma allora, dunque, io mi sto muovendo, però qui parlo proprio sull'onda dei day by day, perché non c'è. Allora, io mi sto muovendo avendo dato le linee guida per lo smart working senza aspettare che qualcuno me le chiedesse. Adesso in queste ore sto rispondendo alle aziende che mi chiedono come ci muoviamo rispetto alle indicazioni sul Ministero della Salute e lì sto dando delle indicazioni che comunque è quello che dice il Ministero della Salute vince sempre, quello che dice il medico del lavoro, poi la direzione sanitaria negli altri casi vince sempre, quindi come per dire io vengo a ruota di tutti questi. Dopodiché sto in una sorta di diario registrandomi quello che sto dicendo alle aziende, quello che mi stanno chiedendo le aziende in modo tale da avere un elemento per poter ricostruire poi che cosa è successo e perché è successo. Le motivazioni, quando rispondo alle mail e tendenzialmente la mia posizione è quella della privacy viene dopo, motivo il perché do determinate indicazioni, cerco di non appesantire la vita burocratica alle aziende, quindi tra un foglio sì e un foglio no, la mia posizione è un foglio no e ti spiego perché è meglio un foglio no, un foglio no adesso perché sei già in enorme difficoltà, ti metto a fare, a farti fare le firmette, l'azienda non capisce più niente, i lavoratori men che meno, c'è un lavoratore che non ha una mascherina pensate che possa mettersi lì a fare la firmetta su un modulo, secondo me il suo problema è datemi la mascherina, datemi la garanzia che possa operare in condizioni minime di sicurezza che vi torna a casa e non infetta la mia famiglia, questo è quello che si pone un lavoratore in fabbrica e ricordiamoci che se le fabbriche sono chiuse l'Italia è isolata com'è, siamo fottuti e quindi voglio dire, noi non pensiamo soltanto alle aziende che producono prodotti alimentari, disinfettanti, dicendo, ma pensiamo a tutta la catena dell'imballaggio, se si ferma la catena dell'imballaggio, noi come la trasportiamo i detergenti, non è soltanto la filiera produttiva di quello che consumiamo, che consumano negli ospedali, c'è proprio tutta una salta e serie di fili, quindi la priorità è questa qua, io mi tengo la documentazione e aspetto che sia passato cercando di dare il contributo alle aziende, soprattutto laddove vedo che posso essere utile, laddove le aziende mi chiedono qualcosa, altrimenti la mia politica non è di andare a mettere ulteriori lacci, laccioli perché non è il momento assolutamente. Chiara, concludiamo questa puntata, mi avete dato tantissimi spunti di riflessione e soprattutto mi piace quello che è emerso tra le tante situazioni poi particolari sulle quali ci avete aiutato a ragionare, ma insomma questa esigenza di bilanciamento che sicuramente il DPO deve essere il primo a portare avanti in azienda o nei confronti della pubblica amministrazione per le quali svolgere l'incarico. Sì, ma niente c'è poco secondo me alla fine, se vogliamo tirarvi di fila di tutto, ripercorrendo dobbiamo scegliere che cosa sacrificare in questo momento, condivido anch'io in questa contingenza la privacy, non dimentichiamocela del tutto perché comunque, anzi il ruolo del DPO secondo me in questo, come diceva la Monica, tenere le registrazioni, io mi permetto solo di dire ogni attività che fa, soprattutto in azienda, anche da remoto, si ricordi di verbalizzarlo, ma anche nella sua tutela che può sempre essere utile e poi fondamentalmente quello che io penso è che voglio fare un passo in avanti con estrema fiducia, una volta quasi pensando di… la normalità non è vicina, purtroppo lo sappiamo perfettamente, però se guardiamo a quella, anche se è ancora un po' lontana, tre cose secondo me si possono riassumere e racchiudere un po' tutto, stabilizzare le misure individuate, ad esempio tra cui lo smart working, dico solo una cosa, che lo smart working di oggi è lo smart working previsto in forza di una deroga dell'articolo 2 del DPCM del 25 febbraio del 2020, lo dico perché secondo me è anche un buon messaggio, lo smart working di oggi non sarà lo smart working, non è lo smart working, perché sicuramente è una grande opportunità, però usciti dalla crisi non è che il dipendente dice sai che c'è, io mi sono trovato bene a lavorare a casa nel bilanciare la mia vita, esatto continuiamo così, non potrà essere così, anzi secondo me la voglia poi di uscire, di ritornare alla socialità sarà e tanta e sarà e già tanta e sarà tantissima più avanti, senza però secondo me anche… mi permetto di fare una nota di moralità, tra parentesi, sfruttando, cercando di fare tesoro di questo momento estremamente difficile che se vogliamo leggerlo anche con occhi di speranza è una grande opportunità per dare anche un ordine di importanza, eccetera, tra le tante cose e quindi per tornare a bomba sul DPO aggiorniamo l'analisi dei rischi, perché ad esempio lo smart working, ci pensavo l'altro giorno, non è che è una nuova riga di trattamento, almeno secondo me non sarà una nuova riga di trattamento, ma dal momento che in tante realtà e comunque in generale lo smart working viene fatto su strumenti tipo il computer dell'azienda, ricade sugli asset, ricadendo sugli asset andiamo ad aggiornare l'analisi dei rischi. Quindi va a incidere a livello di vulnerabilità, cioè sulla possibilità più alta di accadimento di un rischio, certo. Esatto, e poi di mettere a frutto questo lesson learning che questa impattante esperienza ha lasciato segnando la vita di ciascuno, purtroppo nessuno escluso a livello globale. Ecco, io mi permetto di aggiungere un quarto suggerimento di stare lontani dalla cucina. C'è da dire, Monica, che io in questa settimana di smart working, insomma da avvocato mio non è smart working, però insomma modalità da remoto ho visto tantissime cucine, ce ne stagni, insomma, poi è successo, forse è successo anche quello. Hai visto anche dei pigiami? Ho visto dei pigiami, ma poi c'è sempre questa sensazione che magari sopra c'è la camicia e sotto c'è il pigiama, non si capisce bene, però diciamo, insomma, è anche questo un modo, no, un po' per far scendere un po' di tensione. Ecco, la cosa che ci porteremo dietro forse è che anche come consulenti non è sempre necessario fare chilometri, 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 insomma, che certe volte ci si riesce, diciamo, comunque creare un'immediatezza di rapporti, insomma, anche di franchezza, no, di relazioni anche con questi strumenti che adesso sono tendenzialmente molto virtuali. Però, insomma, noi come YouSlow Web Radio abbiamo sempre trovato il modo, no, di creare questa vicinanza anche con mezzi telematici. Quindi, insomma, io vi ringrazio, ringrazio Monica, ringrazio Chiara che sono state così preziose, così precise nel darci questi suggerimenti e naturalmente i DPO all'ascolto ci scrivano per darci anche i loro consigli, le loro esperienze, perché qui, insomma, è proprio una situazione dove ogni giorno c'è una novità e c'è sicuramente qualcosa da imparare per tutti. Un plauso ad Elia, un plauso a Monica, grazie per avermi coinvolto nell'intervista. Grazie, grazie a tutti e grazie, grazie anche per la partecipazione. Allora, grazie ancora ai nostri ascoltatori e grazie anche a chi ci ha visualizzato con questa nuova modalità sperimentale e ci risentiamo alla prossima puntata di Speciale Adeguamento Privacy. Da Elia è tutto.